Buonasera, non ci credeva più nessuno, quasi neanche noi, però ci siamo, siamo di nuovo qui ritorniamo sulla pagina e sul canale di 23esima strada per annunciare che finalmente stiamo partendo con 2000 passi fine 2017 è stato il periodo che avevamo iniziato già a fare le prove del film che abbiamo interrotto successivamente per il motivo per il quale abbiamo perso tutto questo tempo che non vi sto qui a raccontare, comunque sono successe tante cose, alcune piacevoli altre no ma alla fine adesso abbiamo diciamo un po' raccolto tutto quello che avevamo fatto in questi anni per il film l'abbiamo di nuovo rimesso insieme e stiamo pronti a ripartire ormai non conta più quello che ci ha fatto perdere tempo, pazienza, per alcune cose magari può essere anche colpa nostra alcuni se ne sono andati per seguire altri progetti ma alla fine quello che conta è che quelli che siamo rimasti siamo uniti e finalmente stiamo riuscendo un po' a mettere tutto insieme per poter partire adesso faccio questo brevissimo video per ringraziare gli sponsor che già da inizio 2018 hanno contribuito alla realizzazione di questa opera e hanno aspettato tutto questo tempo che sono, me li sono segnati dai meno recenti ai più recenti Valerico Fionpastri che ci ha dato una grande mano che a Santa Lucia del Mela e a Milazzo Giuseppe Mazzagatti ci ha dato una grande mano grazie Giuseppe il tabacchino di Francesco e il tabacchino di Cristiano di San Filippo del Mela ci hanno aiutato entrambi, la carrozzeria Bonanno, Parabellum Shop che è un sito appunto che ci ha dato una mano per quanto riguarda i costumi Publimania che ci ha aiutato per degli accessori che appunto poi vedrete nel film sono stati veramente bravi Eolian Hotel di Milazzo e Carluc dei Fratelli Capone che a Tarchi, San Filippo del Mela anche loro ci stanno dando veramente una grande mano questi sono quelli che per adesso ci hanno dato la loro disponibilità e il loro aiuto anche altri stanno arrivando però farò un video a parte per loro però siccome questi aspettano da più tempo alcuni hanno già fatto delle cose per questo film mi sentivo in dovere di fare un video di ringraziamento e di annunciare anche a loro oltre che alle persone che appunto stiamo partendo sono in fase di montaggio e ho dimenticato una cosa importantissima di ringraziare lo studio Servili di Milazzo che è lo studio che in questi due anni ci ha dato veramente un aiuto enorme proprio Elisa Servili è quella che ci ha guidato passo passo per farci appunto diventare società e avviare diciamo appunto la nostra casa di produzione veramente la cosa più importante la stavo dimenticando però vabbè l'ho inserita scusa Elisa e un grazie anche a tutti quelli che hanno fatto la loro donazione per il film nella nostra campagna di crowdfunding tra cui l'associazione Il Giglio che ha ospitato le riprese di Malamuri scriverò ringraziamenti nelle info di questo video gli ultimi annunci al volo per appunto rinfrescare quello che già è uscito nelle pagine casting per attori casting per tecnici altri sponsor che volessero contribuire al film e quant'altro mandate le vostre adesioni le vostre richieste di informazioni i vostri contatti tutto alla mail che scriverò nelle informazioni di questo video manca poco però ancora c'è un po' di tempo quindi possiamo un po' valutare le varie situazioni per adesso penso che è tutto spero di essere stato abbastanza veloce se ho dimenticato qualcosa nell'immediato la inserisco anche nelle informazioni quindi leggetele altrimenti ci vediamo a un prossimo video tanto visto che siamo già di nuovo in produzione tra qualche mese poi questi video cominceranno ad essere sempre più presenti anche i video dove faremo vedere appunto tutto quello che sta succedendo quindi si riparte con tutto con i diarie di bordo e quant'altro grazie mille a tutti grazie per l'attesa ventitresima strada non si ferma ovviamente chiunque ci volesse aiutare è ben accetto mandatela mail grazie mille grazie mille grazie mille